Oggi ricevo questo premio qui a casa del sindaco che ringrazio tantissimo, questa è la mia città quindi sono da perdere per chiuso di questo. Premiamo un campione insomma, uno della nostra terra perché poi Ciro Immobile è un napoletano che ha avuto tanto successo altrove, un peccato vederlo sempre con altre maglie e non con la maglia azzurra del Napoli, ma questo resta uno dei misteri del calcio perché il calcio ci abitua anche a cose veramente strane. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo l'attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile ha ricevuto oggi il premio giocatore dell'anno assegnato dall'Associazione degli Allenatori, un riconoscimento che verrà poi esteso anche ad altre eccellenze del calcio italiano. Immobile ha ricevuto anche una targa da parte dell'amministrazione comunale di Napoli. È veramente bello poter ospitare poi questa importante manifestazione nella sala giunta del Palazzo San Giacomo, è la casa della città che si apre allo sport più bello, insomma più appassionante che il calcio. Un grande campione Ciro Immobile, un ragazzo che ha fatto un sacco di gol quest'anno, al fiuto del gol, sa fare squadra, capocannoniere e poi insomma un ragazzo delle nostre terre di pochi chilometri da qui, di Torre Annunziata. Noi sappiamo quanto è difficile diventare campioni partendo da contesti complicati, quindi vuol dire che oltre alla bravura, alla professionalità c'è una grande passione.